Rionero Sostenibile, autostrade digitali, infrastrutture, riqualificazione, insomma, ne ha parlato l'amministrazione comunale in un incontro con la comunità per informarli dei progetti che ha intenzione di realizzare e di accogliere anche quelle che poi sono le proposte da parte dei cittadini. Oggi incontriamo il vice sindaco Antonio Tartarisco che è assessore anche alle attività produttive, assessore grazie per aver accettato il nostro invito. Allora lei si è occupato di energia, di digitalizzazione, Rionero sta cambiando look, da quello che si è capito insomma avete tanti progetti in cantiere sperando che la stessa Rionero si trasformi in un cantiere? Assolutamente sì, infatti noi crediamo che già dal prossimo anno inizieremo a vedere una serie di cantieri che partiranno, si avvieranno su progetti su cui abbiamo preso finanziamenti, progetti ad esempio raccontati questa mattina sulle scuole ma non solo, anche i progetti che appunto citava prima lei sulla parte dell'energia, sulla parte dell'ambiente, progetto che speriamo già nel primo semestre del prossimo anno partirà appunto la riqualificazione energetica dell'intero impianto di pubblica illuminazione e la parte di illuminazione degli edifici comunali e la parte diciamo termica degli stessi edifici comunali. È una misura che dobbiamo accelerare il più possibile visto il contesto in cui viviamo. Parliamo di risparmi importanti, l'obiettivo è quello di ridurre di circa il 60% i consumi sulla pubblica illuminazione, pensate che noi un paese come Rio Nero come ordine di grandezza consuma circa 2 milioni di kilowattora anni solo per la pubblica illuminazione. Stesso discorso vale per l'energia degli edifici pubblici, noi abbiamo pochissimi edifici pubblici con relamping a led dell'impianto illuminazione. Il progetto che partirà prevederà diciamo la riqualificazione di tutti gli edifici pubblici anche lì per un risparmio di circa il 40% e non per ultimo la riqualificazione e rigenerazione di tutta la parte termica degli edifici pubblici. Noi stimiamo di andare a sostituire circa il 70% della potenza termica installata per un risparmio stimato in termini di metri cubi di circa che si aggira attorno al 25-30% anno quindi parliamo di somme importanti, risparmi importanti che in questa fase dobbiamo assolutamente accelerare. In che tempi? Allora noi siamo dati come tempi due anni per raggiungere l'obiettivo del 60% ma come spiegavamo prima nell'incontro chiaramente correremo per sviluppare il tutto in 12 mesi. E veniamo assessore alla digitalizzazione, insomma il mondo corre, si va in fretta, le tecnologie avanzano, siamo tutti tecnologici però comunque voi date tempo anche a chi diciamo la verità non ha anche una affabilità con questi meccanismi però comunque il comune di Rio Nero diventa tecnologico e quindi anche questo per accelerare un po' quelli che sono i servizi e andare incontro alle esigenze del cittadino? Assolutamente, noi abbiamo partecipato, abbiamo candidato domande su quella che è la parte del PNRR inerente alla pubblica, all'APA digitale 2026. Abbiamo preso circa 400 mila euro che saranno tutti fondi stanziati per la digitalizzazione dei servizi comunali per rendere finalmente uno sportello virtuale al cittadino che manca purtroppo al comune di Rio Nero in Vulture o meglio più che manca è poco sviluppato. Anche qui per darvi dei numeri e farvi capire il fenomeno, se oggi lei va sul sito del comune di Rio Nero in Vulture può trovare al massimo forse 10 stanze online da poter compilare. Con l'avvio di questi progetti le 10 stanze online diventeranno 600, quindi può ben immaginare come il tutto si semplifica, si trasforma e si avvicina sempre di più al cittadino. Chiaramente come sottolineava il sindaco ciò non toglie che rimarrà sempre valido e resteremo sempre lì a raccogliere i cittadini per qualsiasi problematica, dubbi e quant'altro, quindi lo sportello poi ideale rimarrà sempre e comunque. Certo, un'ultima domanda, lei ha anche presentato il progetto Rio Nero Pulita, ecco si vuole andare verso rifiuti zero, in che cosa consiste questo vostro progetto? Allora il progetto Rio Nero Pulita nasce sostanzialmente già dalla fase della costituzione della lista Oltre, è stato uno dei capisaldi della lista. Noi abbiamo fin da subito candidato, noi ci siamo insediati a fine ottobre, a inizio novembre abbiamo già candidato il progetto per l'ecocompattatore manciaplastica, il decretto manciaplastica che è uscito appunto nello scorso anno, prevedeva la sottomissione di un progettino di una domanda, i comuni potevano partecipare e noi come Rio Nero abbiamo richiesto un ecocompattatore da 30.000 euro, questo servirà ad innescare tutta una serie di attività da cui partiremo per sensibilizzare e rieducare le persone all'ambiente. Noi abbiamo, anche qui per darvi dei numeri, a livello di percentuali noi come differenziata a Rio Nero viaggiamo circa intorno al 65%, abbiamo avuto poi delle flessioni causate dal Covid, qui siamo arrivati anche al 63-64%, l'obiettivo è di risalire, di andare al 70%. Come è possibile fare questo? Chiaramente andando a creare, istituire dei progetti, delle campagne di sensibilizzazione, di rieducazione del cittadino, chiaramente facendo capire effettivamente quello che oggi è l'importanza dell'ambiente e come l'ambiente si lega appunto all'attività che tutti i giorni noi svolgiamo sostanzialmente. Non dimentichiamoci Assessore che siamo poi in un comprensorio che fa parte di un parco naturale. assolutamente e quindi ancora di più ci tocca diciamo essere virtuosi da questo aspetto. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei.